Fratelli d'Italia è la prima analisi del voto. La coalizione di centrodestra vince in Abruzzo in maniera decisa e decisiva. Solo tre regioni del nord hanno una percentuale maggiore, ha detto il commissario provinciale Pierluigi Biondi in apertura. La regione insomma trae nel risultato nazionale anche l'Aquila. In Abruzzo Fratelli d'Italia prende la percentuale maggiore del Collegio Sud Italia. Nel Collegio Unico Senato abruzzese rispetto alla media nazionale Fratelli d'Italia prende il 4,2% in più e anche in provincia dell'Aquila supera di oltre 6 punti la media. Anche alla Camera Abruzzo prende il 3,8% in più rispetto alla media anche nel Collegio dell'Aquila. Risultato di un impegno collettivo con una campagna elettorale vecchio stile hanno detto i presenti. Il Collegio dell'Aquila fa registrare il miglior risultato anche l'Aquila città dove si è andati ben oltre il 50%. Con la presenza della Meloni nel Collegio il partito ha preso il 10% in più rispetto a 5 anni fa. Fratelli d'Italia è andata benissimo anche nei comuni dell'Aquilano. Siamo molto contenti per il risultato che ha fatto la coalizione di centrodestra a livello nazionale che consente di avere finalmente un governo legittimato dal voto popolare, un governo con un unico programma che chiude definitivamente la stagione delle alleanze variabili che non sono stati in grado di dare una risposta concreta alle esigenze del Paese. Siamo contenti per il risultato abruzzese. Ora inizia il lavoro dei sei parlamentari eletti. Guido Liris, Sete al Sigismondi, Curino Testa, Fabio Roscani e Raccale Silvestri, oltre a Giorgia Meloni ovviamente. Stare sul territorio sulle tematiche importanti, affrontarle con attenzione paga. È un centrodestra forte, compatto, omogeneo, attrazione Fratelli d'Italia. Evidentemente questo ci permetterà di essere maggioranza tanto alla Camera quanto al Senato e poter affrontare quelle sfide difficilissime a cui siamo chiamati dalla storia. Fratelli d'Italia viene da 10 anni molto difficili. Partiamo da percentuali bassissime. Nel 2012 tutti ci davano per spacciati. Abbiamo dimostrato che la nostra forza, la nostra capacità di buttare il cuore oltre all'ostacolo ha premiato. Come ha detto il nostro leader, un punto di partenza e non di arrivo. Sappiamo che l'agenda politica sarà piena di emergenze e di criticità, però siamo fiduciosi perché c'è una coalizione importante che ha dimostrato di essere robusta e ci sarà questa attrazione di Fratelli d'Italia che sarà un'attrazione che darà garanzia e speriamo, come ha detto sempre il nostro leader, che si possa avere una riconciliazione anche con tutti coloro che ieri hanno preferito stare a casa invece che andare a votare. Il presidente Marsilio ha elogiato la squadra parlamentare ma ha ringraziato anche chi si è messo a disposizione. La Meloni non si è collegata, è remoto, ma non potevamo pretendere di più, ha spiegato il presidente e accompagnato la figlia a scuola, ma poi saremmo con lei a Roma. Marsilio ha aggiunto che l'intero centrodestra ha dimostrato comunque di stare in salute e in merito al Consiglio regionale Marsilio ha detto che non intende modificare gli equilibri. Io sono contento che l'Abruzzo abbia risposto positivamente, non soltanto a Fratelli d'Italia, tutti i partiti della coalizione di centrodestra fanno dei risultati positivi o al di sopra della media nazionale o al di sopra comunque della media del territorio di riferimento dimostrando quindi radicamento, capacità di consenso da parte dei cittadini, delle amministrazioni che guidano insieme a noi e questo è un indice di buona salute che ci incoraggia ad andare avanti, a concludere con ancora maggiore velocità, determinazione e impegno quello che ci resta della legislatura regionale per presentarci con le carte giuste alle prossime elezioni regionali e dare continuità anche a questa amministrazione del territorio.